Buongiorno al Caffè delle Dieci, oggi in compagnia di Giorgio Locano, Francesca Vantorta, benvenuti qui a questo party di Palazzo Montemartini. Allora, a voi chiedo, quanto siete contani, quanto festeggiate, al di là della vostra attività di attori, giustamente? Ma allora, contani nel senso, diciamo, di eventi che hanno forza di sicurità, non di tanto, una amicizia quanto più si vuole, una amicizia. Però, Pestaiola, io sono venuto Pestaiola, cerco di traccidare, con meno Pestaiola. Quindi questa è una coppia anche nella vita, con te nel lavoro. No, però chiamiamo Pestaiola. Allora, tu corri sempre, perché ti ho lasciato che facevi questo spettacolo. Allora, tu corri, ti tieni in forma? Corro, ma non per fare spettacolo. Faccio crossfit. Ah, dai, crossfit, queste proglie. Sto cercando di tornarti Francesca Vantorta. Beh, insomma, quindi mi sembra un giusto messaggio, Arco, il tuo segreto per tenerti così in forma e il crossfit? Sì. Un lasso? No. No, che vero. E' sì, mia, se mi accanto. Certamente, questo mi dà una luce, mi deve finire. E' il tuo per tenerti così in forma? Io è finito, non sono in forma per niente. Allora siamo due, ecco, anch'io sono una finta in forma, ma l'interessante è l'apparenza. Cioè, l'interessante è ingannare attraverso l'apparenza. Cioè, però poi... Anche la sastanza. Anche la sastanza. Poi quando la sastanza viene fuori, c'è l'inganno. Poi voi siete attori, quindi parlare di apparenza, di inganno, cioè giochiamo un po' in casa. Allora, grazie. Questa è simpaticissima intervista. Continuate a tridicci e stivetti a te. Grazie mille.